Ciao a tutti, oggi andremo a vedere come cancellare in modo automatico tutti i post del vostro profilo Instagram. Allora, apriamo Firefox e andiamo sulla nostra pagina Instagram. Clicchiamo Ctrl-Shift-M per aprire la visualizzazione smartphone. Selezioniamo un dispositivo mobile di nostra preferenza e aggiorniamo la pagina per impostare la corretta visualizzazione smartphone. Dopodiché clicchiamo F12 per aprire la modalità console, voi la troverete in questa posizione probabilmente, noi la mettiamo a sinistra per comodità. Dopodiché prendiamo il nostro script, lo incolliamo nella console, dando invio lo script partirà in maniera automatica e cancellerà simulando i vari clic sulla pagina tutti i post che abbiamo fino alla fine del ciclo che abbiamo impostato. La comodità di questo script è il non dover aprire singolarmente tutti i post ad uno ad uno e fare l'operazione manualmente. Come vedete lo script sta procedendo, un post cancellato, due post cancellato, tre post cancellato. Fino ad arrivare al quinto, eccolo qua, cinque post cancellati. In questo momento ha terminato il suo lavoro. Ne ha cancellati cinque perché abbiamo impostato qua nel nostro script di cancellare cinque post. Ma potete poi inserire il numero che volete. Se ad esempio in questo caso noi mettessimo sette, i sette rimanenti li cancellerebbe tutti. Grazie per l'attenzione, vi lasciamo lo script in descrizione del video e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!